Amina e la foca monaca. Amina è una bimba che ama la natura. Amina ha anche una grande volontà. Grazie a quella e a tutti i meravigliosi amici si impegnerà per realizzare il suo sogno. Luciana Vagge Saccorotti ha viaggiato in lungo e in largo per l'estremo nord, diventando amica di allevatori di renne, inuit e sciamani. Ha trascorso molto tempo con i bambini siberiani imparando tante cose. Ha scritto molti libri e questa è la sua prima fiaba. Egildo Simeone, viaggiatore curioso, pellegrino, pittore di icone, musicista, insegnante di arte e di yoga, papà di Francesco. Ogni tanto illustra una fiaba e si diverte tantissimo.